E' stato presentato domenica scorsa presso la chiesa di San Nicola il fonte battesimale restaurato dove nel 1705 è stato battezzato Farinelli. Il restauro è stato reso possibile grazie alla fondazione Porta Sant'Andrea, Andria, su iniziativa dell'associazione Italia Nostra che ha elaborato un progetto di intervento per il bene culturale e si è adoperata per il suo completamento. L'evento giunge a conclusione di un percorso condiviso con numerose istituzioni con cui l'associazione Italia Nostra ha interagito proficuamente. Sono intervenuti la restauratrice Felicia Laviola e il regista Riccardo Cannone a seguire due artisti andriesi. Valeria Di Maria, soprano e Gaetano Pistillo, pianoforte, hanno dato vita alla serata con il concerto Età di Farinelli, la musica nel XVIII secolo. Valeria Di Maria inizia da piccolissima gli studi di pianoforte per poi scoprire la passione per il canto, muove i primi passi nel coro Farinelli di Andria, diretto dal maestro Graziano Santovito. Prosegue gli studi musicali a Bari con il dodicino, ansamblo e cameristico barocco, diretto dal maestro Antonella Arnese e parallelamente intraprende la carriera da solista, proseguendo l'attività concertistica in Italia e all'estero, diretta da maestri quali Acciai e Berrini. Gaetano Pistillo, nato ad Andria nel 1974, consegue brillantemente il diploma in pianoforte presso il Conservatorio Piccini di Bari e la laurea di secondo livello in musica jazz presso il Conservatorio Giordano di Foggia. Ha studiato tra gli altri con il maestro Pierluigi Camicia, Giancarlo Gazzani e Giancarlo Schiaffini. Ha suonato con l'orchestra sinfonica della provincia di Bari, con l'orchestra sinfonica della Magna Grecia e con l'orchestra città di Andria.